La guida spirituale presente e coraggiosa, un esempio di alto valore civile oltre che religioso, consegnata a Monsignor Trasarti la cittadinanza onoraria di Pano, ascoltate le persone e guardate in faccia gli ultimi, ha detto il prezule, servite il popolo e il bene comune senza lasciare indietro nessuno. Taglio del nastro alla parrocchia Santa Polinare di Lucrezia per il nuovo centro La Fenice, la struttura realizzata dove un tempo c'era l'Esta Cinema. Contro il taglio degli alberi di Viale Cairoli, nuova manifestazione di protesta da parte degli ambientalisti della Lupus in favola, questa volta in pieno centro storico impersonando i platani che verranno abbattuti. Slitteno i lavori annunciati da RFI per la riqualificazione della stazione di Pano, per il consigliere Ser Filippi è uno sfregio alla città, lanciato un appello al sindaco Seri affinché scriva i vertici di ferrovie manifestando la netta contrarietà. Spettacoli, visite guidate, la discita tra quattro castelli del territorio, ma la testa tornano a rivivere nel centro storico di Fano da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. Tra le novità il banchetto medievale, la prova degli abiti dell'epoca e un sacchetto di sale il cui ricavato sarà devoluto a giullare virgola colpito dall'alluvione in Emilia-Romagna. L'epero e i futuristi marchigiani mostra per tutta l'estate a Palazzo Bracci Pagani, venerdì l'inaugurazione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, ieri sera nell'ex chiesa di San Francesco a Fano si è svolta la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al vescovo uscente Armando Trasarti. Un appuntamento intenso e ricco di emozioni. Ce lo racconta Cristiana Guerra. Fano, in felice concordia, di stimati sentimenti, conferisce a sua eccellenza reverendissima, Monsignor Armando Trasarti, vescovo, la cittadinanza onoraria. È stata una serata intensa, partecipata e ricca di emozioni, quella vissuta presso la suggestiva cornice della ex chiesa di San Francesco. Si tratta della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria che il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha conferito al vescovo uscente Armando Trasarti, che per ben 16 anni ha guidato la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Presenti alla cerimonia i sindaci delle altre tre ex diocesi e dei comuni limitrofi, le autorità civili, militari, religiose, i rappresentanti delle associazioni e i cittadini, che hanno voluto partecipare per rendere omaggio a Monsignor Trasarti, un punto di riferimento non solo religioso, ma anche civile. Un combattente, come l'ha definito il sindaco Seri, che ha guidato con fermezza e amore la collettività. È un riconoscimento importante, fortemente voluto. Il nostro vescovo Don Armando è stata una presenza importante, non soltanto un pastore, ma è stata una presenza vicino alla comunità, vicino alle questioni. Devo dire anche da sindaco in questi nove anni, ma penso di esprimere anche il pensiero di chi mi ha preceduto, e anche la presenza di tutti i sindaci della diocesi, ne sono una conferma, è stato un riferimento su tante questioni, dove in qualche modo è stato un faro, dove ci ha ricordato che chi ha una responsabilità istituzionale non è un esercizio del potere, ma un esercizio del servizio a disposizione della comunità. 16 anni di presenza puntuale, sincera e devo dire anche alcune volte provocatoria, perché era sensibile veramente verso chi aveva maggiori difficoltà. E questo penso gli faccio onore di sia l'elemento che più è stato apprezzato dalla gente. Sulla pergamena la motivazione del riconoscimento, aver testimoniato l'irriducibile ma feconda tensione tra la città di Dio e la città dell'uomo. La consegna della cittadinanza onoraria è proseguita poi con un grande applauso al Vescovo Armando e si è conclusa con le voci del coro polifonico malatestiano. Che cosa ha significato per lei questo riconoscimento stasera? Beh, la cittadinanza è inaspettante fino a due giorni fa, ma è molto, è popolo, è appartenenza, è qualcosa, non è un oggetto, è un legame. Quindi questa è cittadinanza. Poi dopo devo ruminare ancora, capire. Cosa lascia a Fano e che cosa porterà per sempre nel cuore? Beh, Fano lascia la gente, questo popolo bello, solare, anche capace, un popolo che fa dibattito, però un popolo che su certi valori ci sta. Io ci credo questo. Laborioso. Poi è una bella città, Sala, noi abbiamo cittadine belle, Fosobroni, Cagli, Pergola, anche sacrifici, perché quattro con cattedrali non è che sia semplice gestirle. Però, ecco, quello che lascio è il volto della gente, sì. Dopo se vado a pensare a qualche volto particolare, beh, ripenso Casa Serena, i più deboli, ripenso il carcere, ma su serio. Diccio, amici, ripenso anche le tante fragilità, le storie familiari, anche le fatiche, quella confidenza data, quel consiglio che ti chiedono. Questo si lascia, cioè ce lo portiamo dietro. Il volto della gente è questo, il resto, le opere si scordano, ma il volto della gente no. Non era a trovarci a Fano? Esatto, domanda. Ma presumo subito no, bisogna che il vescovo nuovo venga accolto, amato e merita molto. Poi, a venire un'ora di macchina, quando serve, io l'ho già detto, sia il vescovo di pietra che di Fano, quando serve, me lo dite un'ora di macchina. Però, inizialmente è bene saccare, starei male io e fare stare male, ma starei molto male. E vi ricordiamo che domenica 2 luglio alle ore 18 Fano TV trasmetterà in diretta dalla Cattedrale di Fano la concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Armando Trasarti e sarà un'ulteriore occasione per ringraziare Sua Eccellenza per i 16 anni di Episcopato. Ora andiamo a Lucrezia di Cartoceto, dove lo scorso fine settimana è stato inaugurato il nuovo centro parrocchiale intitolato La Fenice perché realizzato dove un tempo sorgeva l'ex cinema. Vediamo il servizio realizzato da Filippo Pucci. Il 24 giugno, alla presenza di tanti fedeli del parroco Don Marco Mascarucci e del vescovo Armando Trasarti, è stato inaugurato il nuovo centro parrocchiale La Fenice alla parrocchia Santa Polinare a Lucrezia di Cartoceto. Il vescovo, che ha invitato la popolazione all'uso di questa struttura in tutti i suoi spazi e ricordato come sia nato il progetto, ha poi tagliato il nastro insieme a Don Marco e al sindaco Enrico Rossi. Con l'inaugurazione di questa struttura si completa tutto il plesso parrocchiale. Il nuovo edificio ha una superficie di 1500 metri quadri divisi su due piani, stanze dedicate al catechismo, alle lezioni di musica, all'oratorio e una biblioteca. Poi un magazzino per la Caritas, un ascensore interno per disabili e un'area esterna verde per lo svago, compresa di parcheggio. Siamo tutti contenti e lieti perché dopo aver celebrato la messa e aver dato gloria a Dio, ora vogliamo concretamente dare lode anche con la condivisione di questa gioia che si estende a tutti. Vogliamo rendere tutti partecipi di questo evento, facendo in modo che tutti sentano che questo centro è casa per tutti, è luogo di raccolta per tutti. Allora vogliamo essere veramente lieti e riconoscenti del Signore, ma siamo riconoscenti di coloro che hanno realizzato quest'opera, dando veramente un sostegno concreto, non solo in termini di denaro, ma anche con l'aiuto e il volontariato, che è necessario perché questo centro abbia vita a beneficio di tutti. Costo totale di 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 400 mila, finanziati dall'8 per 1000 della CEI, mentre il restante dalla Diocesi. Lei ha ricordato che questa struttura vuole essere aperta a tutti? Sì, vuole essere aperta a tutti perché non possiamo chiudere il cuore a chi ha bisogno, a chi ha bisogno anche di aggregazione e per questo siamo veramente disponibili. C'è un gruppo di famiglie che prende le pronotazioni e si fa carico di queste richieste e noi cerchiamo del possibile di andare incontro a tutti. E quindi questo ci sembra importante proprio perché il paese abbia un beneficio concreto da questo centro. Il centro parrocchiale La Fenice nasce nello stesso punto dove un tempo sorgeva il vecchio cinema, demolito poi nel 2016. E oggi purtroppo c'è stato un altro infortunio sul lavoro ed è successo in un'azienda di Montecchio dove un operaio è stato travolto da un muletto sul posto e è atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato al torrente di Ancona. L'uomo ha riportato un trauma da schiacciamento e le sue condizioni sarebbero critiche. L'AS di Peser Urbino fa sapere che dal 1 luglio e fino alla fine del mese sarà attivo il servizio di guardia medica turistica del distretto di Fano. Gli ambulatori saranno disponibili lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 15.30 nella sede della continuità assistenziale ex guardia medica di Fano in via Pizzagalli. Il martedì e giovedì il servizio sarà attivo a Marotta sempre dalle 12.30 alle 15.30 nella sede della Croce Rossa Italiana. I turisti potranno contattare telefonicamente la guardia medica negli orari di apertura dell'ambulatorio. Cambiamo argomento, il consigliere comunale e regionale Luca Serfilippi è intervenuto nuovamente sulla situazione definita drammatica in cui versa la stazione ferroviaria di Fano e a Vilente ha detto apprendere che i lavori di riqualificazione slitteranno di un anno. Il sindaco Seri sulleciti RFI in modo deciso per far cambiare i programmi e gli investimenti. Infatti, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino RFI, ha comunicato che l'avvio della progettazione slitterà al 2025 mentre l'inizio dei lavori al 2026. La stazione di Fano, ha aggiunto Serfilippi, è indecorosa, sporca, maleodorante e non funzionale per i disabili. Bastano pochi minuti di pioggia per allagare il sottopassaggio costringendo gli utenti a camminare nel fango e nell'acquittrino. Invito Seri a scrivere in modo vigoroso ai vertici di ferrovie, manifestando la netta contrarietà al nuovo piano di interventi. Come consigliere regionale, ha concluso, sono disposto a collaborare nell'interesse della città per portare a casa il risultato e per modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione promessi e non più rinviabili. Non avendo ottenuto risposte, gli ambientalisti di diverse associazioni, tra cui la Lupus in Fabula, hanno organizzato una terza manifestazione contro l'abbattimento degli alberi di Viale Cairoli. Questa volta hanno coinvolto il Centro Storico Cittadino. Vediamo che cosa è accaduto nel servizio curato da Massimo Fughetti. Vogliamo la sospensione di questo progetto, la discussione di un nuovo progetto che sia rispettoso sia dell'ambiente ma anche della qualità del Viale e delle esigenze dei cittadini. Questa volta hanno dimostrato la loro contrarietà all'abbattimento degli alberi di Viale Cairoli in pieno corso Matteotti e in un giorno di mercato. È stata la terza manifestazione che gli ambientalisti animati da Lupus in Fabula e da altre associazioni hanno organizzato per indurre l'amministrazione comunale a rivedere il progetto che insieme alle ferrovie dello Stato intende rendere più accessibile il sottopasso ferroviario. Tra la curiosità della gente e il controllo attento di due vigili urbani è stato attivato un flash mob molto significativo. Alcuni hanno impersonato i platani che dovrebbero essere abbattuti mentre un altro personaggio ne ha mimato il taglio reso ancora più realistico dal rumore di una motosega diffuso da un registratore. Mano a mano tutti sono caduti a terra simboleggiando una strage. Sarebbero tra i 14 e i 16 platani che dovrebbero essere eliminati uno spoglio sensibile per Viale Cairoli che viene considerato uno dei più belli viali alberati di Fano. Allo stesso tempo gli ambientalisti hanno depositato una raccolta di firme in comune tesa a sostenere le loro richieste. Oggi abbiamo fatto un flash mob per attirare l'attenzione dei cittadini siamo qui per il corso, adesso ci sposteremo anche più verso la piazza e ovviamente il tema è sempre quello noi vogliamo discutere dei progetti che il comune di Fano mette in campo quando convongono i cittadini e parti del territorio. In questo caso Viale Cairoli è un viale storico a 150 anni non si può calare un progetto così dall'alto senza che sia discusso con nessuno è un progetto fra l'altro abbastanza brutto che sconvolge completamente un viale è inaccettabile che i comuni si muovi in questo modo senza consultare, ripeto, nessuno su cose così rilevanti per la città. Consegnate anche una raccolta di firme? Come è andata l'iniziativa? La raccolta di firme è spontanea, è ben lasciato dei fogli presso due esercizi commerciali e oggi siamo a 360-370 firme, le consegneremo questa mattina al sindaco poi se il sindaco non ci riceve o non c'è comunque le protocolleremo la raccolta firme è continua e insistiamo con la richiesta di un incontro con il sindaco, l'assessore competente perché vogliamo la sospensione di questo progetto, la discussione di un nuovo progetto perché quel viale non ha solo un problema di sottopasso ma anche un viale abbastanza degradato che avrebbe bisogno di tanti lavori di messa a posto. Quindi fino adesso nonostante le manifestazioni non avete avuto alcun incontro con i rappresentanti del comune? Nessuno, non ce n'è più sordi di quello che non vuole sentire. Si apre una nuova fase operativa per la ricostruzione a seguito dell'alluvione di settembre 2022 infatti è stata pubblicata un'ordinanza che permette di intervenire direttamente sulle situazioni più gravi fino ad oggi, come ha spiegato il presidente Acquaroli si potevano avviare soltanto interventi di emergenza mentre ora sarà possibile provvedere anche alle procedure di risarcimento dei danni subiti da imprese e abitazioni intanto sono iniziati i lavori per il dragaggio e la messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Misa a Senigaglia nell'area dei Magnali in corrispondenza del tratto fra il ponte Garibaldi e il ponte Due Giugno il prelievo delle gheie sabbiose stimato in 3.000 metri cubi favorirà il deflusso delle acque di piena Invece alla nuova Darsena di Pesaro sono iniziati i lavori per la realizzazione di nuovi posti barca sabato scorso il via dei lavori con i sommozzatori che si stanno occupando dell'installazione delle catenarie alle quali ancorare i natanti alla banchina sostituire i corpi morti e riqualificare gli ormeggi al termine dei lavori la Darsena di Pesaro potrà contare su nuovi attracchi pronti ad ospitare le imbarcazioni dedite ad attività sportive, ricreative e turistiche per agevolare i lavori e permettere ai sommozzatori di operare in sicurezza la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza per disciplinare le attività e vietare la navigazione di mezzi che potrebbero intralciare le operazioni Diamo spazio alle vostre segnalazioni partendo dal disagio vissuto da alcuni residenti di Carignano ma anche dai turisti che devono raggiungere la casa vacanze a causa della chiusura della strada comunale che va dal Civico 98 fino al bivio di Strada Angiolello la strada, ci ha scritto una telespettatrice era stata chiusa immediatamente a seguito di una frane in occasione delle forti piogge cadute il 15-16 maggio scorsi ho sollecitato più volte il comune sia telefonicamente che per iscritto ma senza ottenere risposte inoltre ora con la chiusura della strada non abbiamo più nelle vicinanze i cassonetti per la raccolta differenziata quindi i rifiuti dobbiamo caricarli in macchina e percorrere diversi chilometri per raggiungere la prima isola ecologica disponibile la segnalatrice quindi torna a sollecitare il comune questa volta tramite Fano TV affinché intervenga il prima possibile per ripristinare la viabilità ora apriamo la pagina degli eventi questa mattina è stato presentato il programma dei Malatesta a Fano l'evento torna venerdì, sabato e domenica nel centro storico di Fano con tante novità a partire dalla disfida dei quattro castelli fino alle visite guidate al banchetto medievale con la possibilità data ai visitatori di indossare gli abiti dell'epoca Spettacoli, cortee e disfide medievali Malatesta tornano a rivivere nel centro storico di Fano da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio quest'anno l'appuntamento estivo del Paglio delle Contrade per la sua decima edizione recupera l'originaria denominazione di I Malatesta a Fano ideato dalla Confcommercio negli anni 80 durante l'evento organizzato e promosso dal gruppo storico La Pandolfaccia sarà possibile fare un tuffo nel passato quando Pandolfo III si recò a Fano alla vigilia del 1400 per ringraziare la Madonna del Ponte Metauro per scampare la peste in questo clima i visitatori avranno la possibilità di rivivere il matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca ammirare sessioni di addestramento nel campo d'arme e assistere alle esibizioni di sbandieratori musici, armigeri, giullari e sputafuoco domenica sera poi a contendersi il palio con il tiro alla fune saranno non più i quartieri della città bensì quattro castelli di origine malatestiana del nostro territorio Fano, Mondolfo, San Costanzo e Castelvecchio il progetto dell'idea che avevamo avuto è che una persona che capita a Fano possa respirare l'aria medievale quindi tutta la città darà questo respiro a partire dal Pincio dove sabato verranno restiti tutti gli accampamenti militari quindi diversi figuranti da tutta Italia verranno a Fano per fare questo accampamento antichi mestieri su via Arco d'Augusto per poi proseguire in questa passeggiata che vi porto direttamente in piazza Andrea Costa per Nefonese il mercato del pesce dove ci sarà la taverna e anche tutti gli spettacoli e gli attività per i giochi per bambini in legna e così via e poi piazza 20 Settembre dove sarà il palcoscenico maggiore che partirà dalle ore 21 in poi dove vedrà il venerdì sera i festeggiamenti per il ritorno del signore Pandolfo Terzo la domenica il banchetto in onore del suo matrimonio e la domenica la di sfida delle contrade Sarà inoltre possibile vestirsi in abiti medievale? Sì all'interno di Palazzo Martinozzi in sala Petinotti che è comunque segnalato in tutti i totem della città c'erano delle piantine con il programma e tutto quanto ci sarà praticamente un angolo dove verranno messi a disposizione degli abiti chi vuole in qualsiasi scenario si presenta lì con la volontà di indossarli di provare a indossarli poi può fare una passeggiata per la città in questo momento storico e magari scattare dei selfie delle foto magari meno mediovali però poter essere all'interno di questo protagonista per la città di Fano la seconda cosa è il sabato sera c'è la possibilità di partecipare al banchetto medievale che viene fatto in onore del signore di Pondolfo Terzo nel nostro sito www.malatestafano.it trovate tutti i recapiti per potersi iscrivere e con un contributo c'è possibile avere un vestito e partecipare alla cena L'evento che gode del patrocinio della Regione Marche e dell'assessorato al turismo ed eventi del Comune di Fano quest'anno offrirà anche la possibilità di visitare in chiave del tutto esclusiva la corte malatestiana e l'ex chiesa di San Francesco il cui sottoportico ospita le tombe malatestiane a fare da ciceroni saranno alcuni studenti dell'iceonofia Polloni l'evento sarà anche solidale sì l'evento sarà anche solidale ci sarà la possibilità di acquistare questo sacchettino di sale che è un simbolo ma serve per poter donare una somma ad un alluvionato dell'Emilia Romagna che noi conosciamo bene che tra l'altro è un artista inserito all'interno del cast del Paglio delle Contrade quindi tutto quello che noi raccoglieremo acquistando questo sacchettino sarà devoluto a lui che tra l'altro è un artista anche un'officina di sogni in cui praticamente tramanda attività artistica e giolaresca ad altri giovani altra novità dell'edizione 2023 sarà il ritorno dei Malatesta Fano anche il 4, 6, 7 e 8 ottobre con iniziative dedicate alla divulgazione storico-scientifica importante sarà il contributo del bando per i progetti di accoglienza turistica della regione un'ulteriore occasione per promuovere la città e la sua storia un periodo storico molto importante per la nostra città e come accade sempre visto la nostra vivacità culturale un'importante associazione è quella del gruppo storico La Pandolfaccia che quest'anno porta un'innovazione cambiando il nome ma di fatto dando più valore proprio all'aspetto storico i Malatesta Fano in tre giorni dove potremo rivivere appunto questo magico periodo storico con Pandolfo e Signora con la ricostruzione di alcuni momenti importanti di quel periodo con la possibilità di visitare la nostra città e le evidenze storiche di quel periodo insomma una settimana che ci aiuterà a riscoprire la nostra città e a conoscere un gruppo storico che sta lavorando tanto quindi voglio ringraziare loro per il lavoro che stanno facendo voglio ringraziare la collaborazione con Confcommercio che porta questa bella innovazione Il programma completo dei Malatesta Fano potrà essere consultato anche sulla pagina Facebook dell'evento Per noi come dicevo è veramente un motivo di orgoglio ritornare al nome Malatesta che appunto è un nome importante medievale che valorizza veramente tutto quello che è la nostra la nostra città perché valorizza con tutto questa manifestazione quelle che sono le belleste storiche della nostra città perché hanno creato veramente nel tempo un'identità storica di Fano dei Malatesta appunto quindi io credo che ritornare al passato ma pensando veramente al futuro sia quella nota di colore per noi importante per attrarre turisti nella nostra città quindi grazie al gruppo storico della Pandolfaccia che con tanto sforzo e tanto lavoro hanno portato avanti sempre questa idea che appunto è nata in commercio tanto tempo fa e che con la loro passione con la loro volontà credono in questo progetto noi li abbiamo appoggiati siamo ripartiti e abbiamo ricreato questa sinergia quindi grazie e sarà il periodo futurista oggetto della mostra estiva organizzata dalla Fondazione Carifano a Palazzo Bracci Pagani con l'esposizione di 60 quadri di De Pero e 40 opere di artisti marchigiani l'inaugurazione è prevista per venerdì alle ore 18 è il futurismo il protagonista nella galleria di Palazzo Bracci Pagani per l'estate 2023 la Fondazione Carifano ha scelto questo tema per organizzarvi la grande mostra annuale sarà esposto un corpus di circa 100 opere tra grafiche stampe serigrafie e sculture uno spaccato inedito di un periodo artistico che ha provocato una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'arte a cui la nostra regione ha dato un grosso contributo l'iniziativa è stata presentata dal presidente della fondazione Giorgio Gragnola e da uno dei curatori artistici Carlo Bruscia la collana di grandi eventi di mostre di qualità a Palazzo Bracci Pagani nella nostra Diana Gallery prosegue con Fortunato De Pero quest'anno Fortunato De Pero che è un artista poliedrico un innovatore del Novecento la sua arte spazia in ambiti molto diversi dalla pittura alla scultura al teatro allarga lo spettro di questa esposizione con i futuristi delle Marche questa mostra mette in evidenza e fa conoscere e riconoscere anche questi artisti quando verrà inaugurata l'iniziativa e fino a quando resterà in allestimento? l'iniziativa viene inaugurata venerdì prossimo alle ore 18 qui presso la corte del Nespolo e la mostra arriverà aperta fino al primo di ottobre invito tutti i fanesi e non solo di portare a visitare questa mostra anche i giovani chi sono questi artisti marchegiani che hanno contrassegnato con le loro opere il futurismo all'inizio del Novecento? il primo e il più importante è Ivo Pannaggi Pannaggi ha avuto una storia straordinaria europea perché ha studiato al Bauhaus e quindi è un autore che ha sviluppato nel settore del design delle ricerche molto avanzate Tulli che ha realizzato l'aeroplano giallo l'aeroplano rosso e ha portato la velocità quindi l'aereo sulla tela dopo questa mostra c'è la possibilità di fare ad Ancona o Macerata una mostra proprio sul futurismo delle marche italiano e quindi rivalutare appieno come è stato rivalutato De Pero quindi in questa mostra De Pero i futuristi delle marche proprio per rivalutare i marchigiani che hanno lo stesso spessore dei balla dei boccioni e dei De Pero tra l'altro Luciano Roberti ha presentato tre serate che si svolgeranno nella Pinacoteca di San Domenico dedicate a tre episodi particolari il 21 luglio alle ore 21 e 15 Giordano Bruno Guerri parlerà di d'annunzio futurista il 28 agosto alla stessa ora Lorenzo Bava e Maria Chiara Mazzi interverranno sulla musica futurista e l'intelligenza artificiale il 23 settembre alle ore 18 Maurizio Scudiero terrà una conferenza su De Pero futurista e centrico e anche questa sera ci occupiamo di passaggi festival che si è concluso domenica scorsa nel centro storico di Fano oggi vi facciamo sentire le interviste a Nando dalla chiesa e a Natascia Stefaninco realizzate da Stefania Bonomi e l'intervista da Narita Brigante realizzata da Cristiana Guerra lei è un uomo che ama impegnarsi soprattutto quando sono in gioco la libertà e la giustizia ma anche la decenza morale e mentale ci sono dei grandi valori in cui si crede a cui si dedica nel limite del possibile una vita e sono questi valori di libertà di giustizia e anche di decenza morale che è importante perché contribuisce a formare lo spirito pubblico di una nazione di una città oggi la frase la legge uguale per tutti sembra non funzionare ma credo che non abbia mai funzionato molto in Italia perché l'Italia ha un problema di legalità ha un problema rispetto agli altri paesi di cultura della legalità gli altri paesi non sono immacolati ma è inutile che ci giriamo intorno il livello di corruzione e di mancanza di rispetto per le leggi in Italia è più alto e va affrontato con delle attività educative che sono più profonde e più incisive e la domanda che mi faccio io con questo la legalità è un sentimento è qual è il modo migliore per radicare il principio di legalità nella nostra vita e crede che esistano ancora dei valori veri radicati nella popolazione italiana dopo tutto quello che politicamente è successo in questi anni? io posso dire che ogni anno faccio più esperienze perché ho più insegnamenti con gruppi di studenti diversi e non trovo difficoltà a recuperarli questi valori e come si può costruire oggi il famoso conflitto? il conflitto è fondamentale per una democrazia e d'altra parte il conflitto pensiamo al conflitto tra padre e figlio è un conflitto che fa crescere sia il figlio sia il padre pensare che una società non ce ne debba essere è assurdo non è un utopio è proprio assurdo un conflitto regolato aiuta una società ad avere a trovare una legalità più alta ci siamo avvicinati a lei con grande simpatia e amore Guy Aolenti è il titolo del suo libro un libro che aveva iniziato a scrivere durante l'anno scorso durante il periodo di passaggi festival stasera lo presenta proprio un anno dopo a passaggi innanzitutto che emozione si prova sì l'ho riportato a casa perché il deal per questo libro è stato fatto in un passaggi l'ho finito di scrivere come ricordavi a passaggi e all'inizio del libro lo dico perché di quei luoghi in cui l'ho scritto c'è Fano una manifestazione un luogo e delle persone a cui sono estremamente legata per me ormai contano i progetti di contenuto e i progetti che abbiano anche un approccio umano alla relazione qui sto veramente bene tanto che dietro le quinte vi stavo dicendo ah devo partire tra qualche ora ai mesi su che cosa ha voluto far riflettere il pubblico con questo libro il terzo volume della collana che scrivo e che curo per Cairo dopo Aldamerini e Chanel è la storia di una donna che ha rotto i soffitti di cristallo sono donne che hanno desiderato affermarsi che però avevano anche la visione il talento la preparazione la determinazione l'eredità principale di Gaulenti ma può valere anche per Aldamerini Chanel e per Maria Callas che uscirà a novembre e la libertà se noi siamo libere come oggi siamo libere anche se c'è ancora tanta strada da fare lo dobbiamo all'oro e di questo sono grata ad Aulenti e a tutte le donne di cui scrivo quanto c'è di annarita in Gaiae Aulenti? in Aulenti c'è tantissimo perché c'è il rigore la dedizione al lavoro io sono innamorata del mio lavoro anche troppo e c'è un amore unico per la cultura per l'arte per tutto quello che ci può ispirare mi ha colpito molto appunto nelle analisi del libro come abbia colpito il fatto che ci siano più vite dentro quella di Aulenti è anche la mia per me sono vite è naturale scrivere di storie vere di vite vere è l'unica letteratura che mi interessa quando ci rivedremo a Fano? prestissimo tra un anno e spero anche prima veramente amo passaggi è un'eccellenza italiana e mondiale e amo questo territorio permettimi di dire che l'ho trovato già che reagisce viene da un periodo drammatico e per me vedere i bambini che giocano in spiaggia il bagno aperto i turisti è veramente un simbolo di forza enorme e tutto il mio amore va a questo territorio alcuni non riescono a capire cosa vuol dire la città segreta città circondata con le mura che lo spinale Natascia Stefaninco è arrivata a Fano tra le altre cose Natascia è una città che ti dovrebbe essere un po' c'è marchigiana c'è qualcosa di marchigiano nella tua vita ovvio ovvio insomma gioco in casa oggi perché poi insomma le Marche è ormai la mia terra e poi dopo l'amoretta mi sento anche meglio conosci anche l'amoretta fantastico mi avete anche viziata senti Natascia arrivi con un romanzo un libro molto particolare profondo che racconta una storia altrettanto particolare ma che ti riguarda molto da vicino cioè è la tua infanzia sì non solo perché nel libro io racconto tutto quello che è successo nella mia vita e anche nell'ex insovietica tra 91 e 92 anni molto intensi difficilissimi ma pieni anche di speranza eravamo nel mirino tutto il mondo ci guardava perché era la dissoluzione dell'Unione Sovietica che cambiava la vita di tutti noi cambiava i equilibri esterni e interni però e anche ripeto c'era questo pizzico di speranza insomma questa fibrillazione che dice ok c'è qualcosa di nuovo c'è qualche novità insomma crollavano anche queste certezze stagnanti e per noi giovani era un qualcosa di interessante di curioso e quindi racconto anche questo certo ci sono anche i flashback della mia infanzia perché sono nata in una città molto curiosa anche questa senza nome senza nome e anche senza non c'era neanche nella carta geografica quindi era una città fantasma diciamo e sono nata lì cresciuta lì e hai dei bei ricordi perché nel libro riporti anche che comunque tu hai dei bei ricordi di questo periodo della tua vita esatto perché comunque e anche dipende anche dalla famiglia dipende anche da tutto quello che ti circondava quindi io comunque e per di più sono nata lì non avevo neanche paragone e quando tu sei nata in questa situazione e comunque la tua famiglia ti regala tutto questo amore e attenzione insomma io facevo nuoto passeggiavo facevo patinaggio sul ghiaccio insomma andavo in giro e comunque mi sentivo anche libera perché io avevo questo pass e con questo pass tu potevi uscire e entrare perché per chi non sa questa città segreta era circondata dalle mure filospinate quindi non si poteva entrare e uscire liberalmente dovevi avere questo documento io avevo quindi mi sentivo anche privilegiata per assurdo e quindi sì è una cosa adesso potrei dire che è un po' inquietante ma lì mi sentivo felice sì ultima domanda tu sai che il nostro festival si chiama chiedi alla vertigine che vertigine può trovare il lettore nel tuo libro carina questa oh mamma mia ma ci sono diversi spunti e vertigine insomma io spero solo che questo libro aiuta le persone capire un po' insomma il mio popolo e anche apprendere alcune cose cioè il libro non è di attualità ma ci sono tantissimi spunti per capirci cioè per spiegare insomma ci sono tantissime spiegazioni di tutto quello che sta succedendo grazie grazie mille subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sull'evento Generazione Futuro Festival che si è svolto a Palazzo Bracci Pagani io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille